Amici, buongiorno, ben ritrovati sul canale Microrogiaio, questo video lo sto facendo per chi non mi segue su Instagram ed altri social, quindi vi voglio ricordare che domenica 17 marzo c'è la Watchmania a Cesena, ingresso dalle ore 9 alle ore 18 e 30, ok? Anzi no, chiusura alle 18 e 30, l'ultimo ingresso è alle 18, diamo la mezz'oretta perché volesse entrare a fare un giro, Cesena presso il polo fioristico, chi ci sarà Cesena? A Cesena ci sono circa 85 espositori di orologeria vintage e 14 espositori di orologeria microbrand nuovi, tra i quali Tulip Watch, Air 1, Officine Tecniche, Mark2Watch, Ignos, Gruppo Orditto, Nostas, Brac Orologi, Trematic, Mark & Morse, VeryWatch, Mondial, Clockface Content Creator che parteciperanno alla Watchmania, l'onorevole Marco Beltrandi, Marco Bracca, Pierpaolo Cassoni, Pasquale di PSQ Watch, Irene Baillardi, Orologiaia, Andrea Manini, Sovitali, Sam Watchit, Giorgio Silvestri, Stefano Tic Tac Watch Channel, Giorgio Cigna e poi sicuramente me li dimenticherò qualcun altro che al momento non mi viene in mente L'invito è questa domenica, domenica 17 marzo, venite, ci vediamo tutti a Cesena, partecipate numerosi Vi ricordo l'ingresso costa 15 euro, nei 15 euro è compreso l'ingresso alla Watchmania, parcheggio in loco, per cui entrate, lasciate la macchina lì, due passi, siete dentro in fiera Per cui parcheggiate proprio nei parcheggi della fiera e in più è compreso l'ingresso anche al mercatino C'era una volta che si svolge sempre lì presso un padiglione di Cesena Fiere, un altro padiglione adiacente Per cui sono altri 200 espositori, avete da girare finché volete, 200 espositori mercatino, 100 espositori alla Watchmania Vi passate una domenica da sogno, portatevi le scarpe comode, ciao amici, al prossimo video